in tutta la Siria è di almeno 125 morti. Tra le vittime ci sarebbero otto bambini e sette donne. Intanto le Nazioni Unite hanno deciso di ritirare il personale non essenziale, sarebbero 25 le persone su un centinaio dalla Siria a causa dell'insicurezza dell'aria. Possiamo andare a sentire nel nostro contributo le parole del Presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama. E torniamo in Italia per parlare dello spread che è impicchiata. Rendimenti ai minimi. Il differenziale con i Bund si è riportato sui valori del marzo scorso mentre il rendimento del BTP decennale è tornato indietro nei primi mesi del 2011. Dunque lo spread che dà una rinnovata fiducia al nostro Paese. Per la prima volta dal marzo scorso infatti la differenza di rendimento tra i titoli pubblici decennali italiani e tedeschi è scesa sotto la soglia dei 300 punti base, a 295 punti. Per qualche momento è sceso ulteriormente. Un livello psicologico oltre che un risparmio sulla spesa per interessi e un vantaggio diretto per le casse dello Stato. I livelli attuali dunque ci hanno fatto tornare indietro più o meno ai primi mesi del 2011 quando lo spread con la Germania era intorno a quota 300. La soddisfazione palese del Premier Mario Monti che dice però ora c'è un altro obiettivo, scendere ulteriormente. Il mio desiderio, il mio sogno sarebbe arrivare a quota 287. Questo significherebbe praticamente la metà rispetto al livello sul quale lo spread si attestava quando il mio governo tecnico si è insediato perché si parlava di 574 punti. A Monti è stato chiesto anche se questa discesa dello spread sia da imputare alle decisioni dell'Unione Europea a proposito della Grecia. Monti ha detto sicuramente questo ha contribuito. È stato anche chiesto se ha contribuito anche in qualche modo la vittoria di Pierluigi Bersani alle primarie del centro-sinistra. Su questo Monti invece non si è sbilanciato. Ha detto ho semplicemente fatto i complimenti al leader del Partito Democratico. Monti ha parlato anche della TAV nel vertice italo-francese, nel trentesimo vertice italo-francese, in corso ieri a Lione. Il progetto deve continuare, questo secondo il Premier, perché è molto importante per l'economia dell'Italia e non solo. Possiamo sentire le sue parole. Parliamo adesso del decreto legge che è stato firmato dal capo dello Stato Giorgio Napolitano a proposito dell'ILVA. Il testo consente allo stabilimento di Taranto, nel centro delle polemiche, di continuare a produrre con uno stretto monitoraggio sulle emissioni nocive. Il testo contiene disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione in caso di crisi di stabilimento industriale e di interesse strategico nazionale. Dunque, lo stabilimento può continuare a produrre, ma ci deve essere una stretta sul monitoraggio delle emissioni nocive. Il decreto firmato dal Presidente della Repubblica prevede che il Ministro dell'Ambiente possa autorizzare la prosecuzione dell'attività. Ha parlato anche appunto il Ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, secondo il quale si rafforzano le norme per imporre il risanamento ambientale alle industrie più inquinanti, estendendo il modello ILVA a tutti i casi di emergenza ecologica e sanitaria, come prevede il testo finale del decreto Salva Taranto, firmato appunto, come dicevamo ieri, da Giorgio Napolitano. Andiamo alla redazione di Class Meteo adesso per fare il punto della situazione sulle previsioni del tempo per le prossime ore. Matteo Zanetti, a te. Pierluigi Bersani, dopo la vittoria alle primarie del centro-sinistra, sarebbe sulla scia del rottamatore Matteo Renzi. Bersani ha dichiarato immediatamente, ora dobbiamo metterci subito al lavoro, e servono delle nuove facce, delle nuove persone. Dunque serve la così tanto sospirata svolta generazionale, il ricambio generazionale. Bersani ha cominciato a parlare di quelli che sono i punti essenziali, le sue priorità, in attesa di arrivare alle urne nel marzo o febbraio, ancora non è stata decisa la data del 2013, per scegliere la nuova squadra di governo. Vediamo con il nostro tablet sul Corriere della Sera oggi quali sono esattamente i progetti del segretario del Partito Democratico. Vengono proprio messi in punti i confini del soggetto unitario. vediamo Pierluigi Bersani, segretario del PD, intenderebbe dare vita a un soggetto unitario che raccolga. Renzi, che in realtà è stato chiamato in causa da Pierluigi Bersani, ma che ha detto io farò parte della squadra solo in realtà se ci sarà davvero la svolta. Possiamo a questo punto andare a sentire le dichiarazioni di Pierluigi Bersani sull'argomento insieme a quelle del leader di SEL, Niki Vendola. Sentite.